Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, vortice depressionario sul Mediterraneo centrale che porterà tempo instabile o perturbato, con piogge temporali localmente anche intensi. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per martedì 15 maggio. Nuvolosità irregolare al mattino su tutte le regioni, con precipitazioni sparse, soprattutto su Alpi e Prealpi, centro orientali, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Piocchi su Alpi e Appennino oltre i 1600-1800 metri. Al pomeriggio ancora piogge al nord-est e sulle regioni del centro-sud, con fenomeni localmente intensi su Friuli e Lazio. In serata e nottata residui fenomeni su Friuli, Lazio, Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Temperature in generale diminuzione, sia nei valori minimi che in quelli massimi da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. 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 Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.